Una gara che insomma era partita sotto altri ospici, poi Fidelisani ha finito addirittura in 9, è stato un pomeriggio particolare diciamo così? No, è una partita che sapevamo che doveva essere una partita dovevamo metterci dentro tanta buona volontà, tanta grinta, tanta voglia di lottare sulle seconde palle e cercare di sfruttare l'occasione. Era andata esattamente in quel modo, abbiamo avuto l'occasione del calcio di rigore, siamo stati bravi a trasformarlo, poi contro vento, quindi avevamo una situazione perché oggi il vento era determinante nelle giocate. Al secondo tempo avevamo questa condizione a noi favorevole, però poi siamo rimasti subito in 10 e poi subito dopo in 9, quindi poi dopo diventa tutto difficilmente commentabile. Soprattutto adesso le indisponibilità di Sasanelli Russo, come verranno gestite? No, abbiamo una rossa ampia, quindi adesso rientra Strambelli, abbiamo una rossa ampia, quindi metteremo sempre dentro una formazione all'altezza della Fidelis. Al secondo tempo una gara contratta, c'è stato l'epidio del rigore che è andato in vostro favore, dove il Gravina vi ha messo maggiormente in difficoltà? Si concede un uomo e loro hanno trovato il gol del pareggio, 11 contro 9, poi diventa troppo difficile gestire. Credo che ai ragazzi vi ha fatto un grosso applauso perché sono stati bravi a reggere la voglia del Gravina, di passare in vantaggio. Allo stesso tempo abbiamo persino avuto un'occasione per andare noi in vantaggio con Piccioni e Cecere, quindi che dire, bravi ragazzi. Dovevamo essere più cinici sotto porta quando eravamo in superiorità numerica. Purtroppo è un rimballo in precisione, però la prestazione che ci conforta, la squadra era viva, presente, ha lottato su tutti i palloni e quindi ha cospetto di una grossa squadra. Questa è la nostra via da seguire e poi speriamo che le cose vadano meglio a livello realizzativo. Il pari soprattutto sembra avervi galvanizzato e soprattutto il Gravina, ancora una volta, di Da Silva, un perno insostituibile di questa squadra. Da Silva è un valore aggiunto a questa squadra, ma Da Silva è supportato da tutti gli altri, che ha giocato dall'inizio, che è entrato, l'ha supportato sempre. Noi ci siamo creati le nostre occasioni, purtroppo è andata in questo modo, però siamo contenti. Grazie a tutti.